Amici, oggi domanda per voi. Pillola rossa o pillola blu? Nulla di questo. Per fare un vero viaggio emozionale, oggi basta seguire il bianconiglio e lo faremo con Yaron Herman. Ebbene sì, cari amici, oggi seguiamo il bianconiglio, il white rabbit della famosa novella di Alice Un Wonderland, Paese delle Meraviglie, e lo facciamo parlando di Yaron Herman. Vi parlo di Yaron Herman, che è un pianista israeliano, musicista israeliano, nato nell'81 a Tel Aviv, poi trasferitosi prima negli Stati Uniti, poi stabilitosi in Francia, dove ormai risiede, produce, conduce la sua vita e fa tanta tanta attività. Bene, Yaron Herman ve lo sottopongo per due principali aspetti. Il primo è legato ad un aneddoto su come ho scoperto questo artista, e secondo perché dal mio punto di vista merita, per chi non lo conoscesse, sicuramente attenzione e comunque un'analisi, perché stiamo parlando di uno dei pianisti più acclamati dell'ultimo periodo. In attività da circa metà anni 90 ha iniziato tardi a suonare, in realtà a 16 anni. Era una promessa, addirittura una promessa del baseball o del football, se non erro, poi ha avuto problemi con un ginocchio e si è, diciamo, dedicato alla musica e di lì ha iniziato a studiare e ha iniziato la sua produzione, la sua capacità espressiva. Bene, Yaron Herman, come detto, è un pianista francese che lavora da solo con grandissima capacità e tante collaborazioni. Ma la cosa più interessante del lì che arriva l'aneddoto è stata che nel 2010, all'inizio del 2010, incontra casualmente altri due artisti, una base ritmica, un contrabassista, Tardini, ed un batterista, Crane, che praticamente lo coinvolgono in un progetto e lui capisce immediatamente che questo trio sa da fare e inizia una bellissima collaborazione. Dico bellissima perché la produzione oggettivamente è stata acclamata in tutto il mondo. E qui arriviamo all'ottobre del 2010, quando per una presentazione, per una serata di gala, in occasione della presentazione di alcuni prodotti innovativi della Ellipson, marchio francese che eseguiamo e che ben conoscete, la proprietà, Philippe Carrè, ci ha invitati, ha invitato me ed altri miei colleghi ad una serata appunto in Francia, a Parigi. Una serata bellissima perché è stata una presentazione a Sal Gavaud, una nota, un noto jazz club, una sala da concerti francese che è proprio vicina a Chancese di sé, insomma un luogo importante soprattutto per il jazz e per la buona musica sostanzialmente. E lì, dopo un bel concerto, c'è stata una cena e c'è stata la presentazione di questi prodotti. Arrivo e sul palco trovo un trio che si presenta, inizia a suonare e vengo rapito immediatamente da alcuni brani suonati in maniera così emozionante, così intimistica, tanto da farmi dare subito l'appellativo a questo pianista di, adesso mi sembra Kate Jarrett, e infatti lo definiscono il nuovo Kate Jarrett. Probabilmente a Aaron Herrman, insomma, è eccessivo magari definirlo il nuovo Kate Jarrett, ma la sua capacità di esprimere emozione, di dare senza soluzione di continuità un contesto armonico, grazie al suo pianoforte, grazie al suo tocco, è probabilmente lì si avvicina molto all'intimismo e alla capacità espressiva di Kate Jarrett. Bene, l'album del quale vi sto parlando è Follow the White Rabbit. Follow the White Rabbit è un percorso, un viaggio così immaginato appunto sulle onde del delice del Paese delle Meraviglie da parte di Herrman, che insieme al suo trio spazia fra composizioni originali e pesca, come tutto il lavoro di Herrman fra l'altro, spazia fra vari generi musicali. Troviamo brani della Disney, come per esempio dal film Dumbo, troviamo brani di Kurt Cobain, troviamo brani dei Radiohead in questo album, come troviamo, diciamo, reprise o rivisitazioni di brani addirittura di Britney Spears, dei Police, insomma, spazia veramente dappertutto. Tornando al disco, devo dire che l'emozione è stata tanta perché oltre ad aver poi acquistato il disco, ad averlo, diciamo, visto, scambiato due parole, se si è, diciamo, messo a disposizione del pubblico, l'ha anche autografato velocemente da lontano, insomma, c'era veramente parecchia gente. Bene, questo disco è stata una vera e propria scoperta, perché è così intimistico, è così ben realizzato dal mio punto di vista, è così trasportante, passatemi il termine, che è uno di quei dischi che messo su difficilmente si riesce a fermarlo fino all'ultimo brano. È un brano, soprattutto il primo è Saturn Returns, che esprime, secondo il mio punto di vista, tutta l'intimità e tutta la creatività di Herman e del suo trio. Non c'è un attimo di sospensione, si è sempre tenuti sulle corde dal punto di vista armonico e di presenza degli strumenti. Una base ritmica eccezionale, c'è una batteria quasi da swing, molto dinamica, molto ben registrata e molto ben definita. Un contrabbasso, quello di Tardini, che è fenomenale dal punto di vista dell'accompagnamento e dell'interazione con la batteria e soprattutto col pianoforte, quindi con la base melodica. Davvero, davvero un ottimo brano per comprendere Aaron Herman. Ma Aaron Herman non è soltanto Follow the White Rabbit, che vi invito assolutamente a scoprire, non vi anticipo oltre, ma ha tantissime collaborazioni, lo troviamo con Dominic Miller, con Cohen, Ashby Cohen, lo troviamo per esempio in duetto con Ciccoria, quindi insomma un personaggio non da poco. Una piccola nota su questo disco che può essere utile. Il pianoforte utilizzato è uno Stainway Model D, quindi è un gran piano e, credetemi, lo si apprezza in tutta la sua interezza e capacità espressiva e dinamica. Bene, questo è Follow the White Rabbit di Aaron Herman. Vi invito a scoprirlo, ovvero lo conosceste, e attendiamo volentieri i vostri commenti e vogliamo sapere cosa ne pensate. Questo è tutto da iFight Club, al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!